ciliegino cosa c'è devi andare a dormire uffa non c'ho sonno voglio uscire voglio andare a giocare con i miei amici sono stufo di stare sempre chiuso in casa oh ciliegino non ti arrabbiare eh ti capisco però ancora non si può andare a giocare con gli amici devi avere un po di pazienza se fai il bravo domani costruivamo un bel gioco insieme come questo qua guarda il gallo e la gallina ti piace sì ma come si fa non ti preoccupare quello ti insegno io poi magari lo regali al tuo amico perino sì voglio regalare a perino chissà come sarà contento quando lo vede e chissà come sta è tanto tempo che non lo vedo su adesso vai a dormire e domani costruiremo insieme un bel gioco va bene buonanotte ciliegino eccoci qui amici cari noi del cerchio tondo siamo una compagnia di burattinai che da quando non possono più uscire con i propri burattini per le strade per le piazze del mondo hanno deciso di pubblicare tutti i martedì dei video con piccoli spettacoli di marionette alternati a tutorial per la costruzione di giochi antichi come questi che vedete qui intorno a me sono dei semplici giochi che potete realizzare anche voi con materiali di recupero per rimanere aggiornati iscrivetevi al nostro canale youtube o cliccate mi piace sulla nostra pagina di facebook abbiamo costruito tutto questo per rimanere in contatto con voi il nostro pubblico fatto di bambini e bambini e genitori se ci inviate i vostri disegni relativi agli spettacoli o le foto dei giochi che avete costruito noi le pubblicheremo nella nostra pagina così le possono vedere anche gli altri bambini un caro ringraziamento per l'attenzione e un abbraccio particolare va a tutti coloro i quali già ci hanno inviato i loro messaggi le loro foto e i loro disegni ci hanno fatto sentire vicini e ci ha fatto piacere spero che anche voi vi siate divertiti nel vedere gli spettacoli e nel realizzare i giochi troverete tutte le informazioni nella descrizione del video e troverete anche un pulsante per una piccola donazione se volete un caro saluto dal cerchio tondo e speriamo di rivederci presto dal vivo ciao 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 ciao